Che cosa sono i raps? Commento. La parola è il plurale dell'inglese rap che significa colpo. Sono chiamati così i rumori di percussione di varia intensità che possono manifestarsi nei contatti con i piani superiori di esistenza. Avvengono senza causa né ragione apparente in una stanza in cui vi sia anche una sola persona la quale non ha mai avuto esperienze del genere.